Se mi spavento il video finisce con Outlast Ok ragazzi stiamo davvero giocando ad Outlast Per tentare la sfida se mi spavento il video finisce L'ho chiesta ieri su Instagram questa sfida E ho visto che molte persone la volevano Quindi oggi Outlast e giochiamo Nuova partita la modalità sarà folle La modalità folle è un'esperienza da infarto definitiva Difficoltà massima e nessun checkpoint Se muori perderai tutti i progressi e dovrai ricominciare dall'inizio Sei pronto a soffrire? Sì Tra l'altro ragazzi dovete sapere che io finì Outlast All'età di 13-14 anni Quando uscì insomma per PS4 con il Playstation Plus mi pare E l'ho finì a modalità folle Una modalità in cui se vieni colpito una volta perdi E se vieni colpito una volta e perdi Devi riniziare tutto il gioco da capo Cioè io all'inizio ragazzi ce l'ho stampato in testa Per quante volte lo riprovai ai tempi E le ricordo ancora molto molto bene Comunque vediamo la challenge oggi come va Per chi non conoscesse Outlast Per quei pochi che non lo conoscessero La storia è la seguente C'è questo manicomio Avvengono cose stranissime in questo manicomio Dato che diciamo c'è stata una fuga di dati E che tra l'altro mi pare Si giochi nel Whistblower Nel DLC Comunque sta di fatto che questo giornalista va lì per indagare Questa sarà la nostra migliore amica Come potete vedere la nostra telecamerina Che ci permetterà di vedere al buio Ha aumentato al massimo la luminosità ragazzi Perché mi ricordo che era una tecnica Per risparmiare batterie Dato che in modalità folle Ne abbiamo praticamente due A differenza delle solite dieci Che dovremmo avere E non è infatti il top Quindi ragazzi vediamo Siamo pronti Io come ho detto ragazzi ricordo un po' di cose Però cercherò insomma di giocare Nella maniera più naturale possibile Evitando di fare una vera e propria speedrun Comunque ci troviamo davanti ragazzi Al nostro carissimo manicomio Ok Indaga sul manicomio di Mount Massive Ok apriamo la porta Ricordo ancora bene i comandi addirittura E ora qui in una finestra dovrebbe apparire qualcuno Se non sbaglio Eh è esatto quella Come si fa a zoomare? Ok così Ragazzi lo ricordo bene Lo ricordo molto bene all'inizio Perché l'ho fatto così tante volte Che voi non potete capire Comunque Andiamo qui Come potete vedere La luminosità massima credo si veda A meno che non abbia fatto qualche cosa di particolare in editing Non lo so Comunque andiamo qui Perfetto ragazzi Ricordo bene anche come fare i parkour Come fare diciamo qualche trucchetto Per essere più veloci nel muoverci Ok Ok ragazzi Prima cosa Qui ci sarà un piccolo jump scare Nulla di particolare Si spegnerà la luce Esatto Lo ricordo troppo bene ragazzi Ora C'è un altro jump scare qui Ci sarà una televisione che si spegne C'è che si accende Volevo dire Tutta nella norma ragazzi Ora andiamo avanti Eh io già qui però Aspettate In questo corridoio mi pare appare qualcuno Se non sbaglio Quindi Un attimo solo Andiamo con calma Ma mica trovo qualche batteria No eh No Ah no ci sta invece Buono 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 Non so quanto durerà questo video Quindi meglio tenermi tutto pronto Eventualmente Ah no si chiude solo la porta qui Si chiude solo la porta Lo ricordavo bene Però a fare dopo esatto Nel condotto di reazione Tipo guardate Io salgo qui Vado a girarmi qui a sinistra E compare lui Esatto Esatto Ok Va bene ragazzi Va bene Ricordo ancora molte cose bene Come potete vedere Va bene Scendiamo qui Dove siamo qui Ah Mamma mia Ho passato un tipo Comunque Ora qui dovremmo stare Nella parte in cui appare Un brutto jump Che era ragazzi Un tizio appeso E un urlo devastante Quindi Stiamo attenti Calmi eh Ok vai Ok Ho il volume altissimo Mi ha spaccato le orecchie Volevo urlare Però non vi sono particolarmente Spaventato ecco Diciamola così Ora sta un tizio appeso Cioè appeso Zippato diciamo E ok A posto Tra l'altro lì c'è il nostro Carissimo porcellino Che ricordo molto bene Ma Lo ricordo così bene Che potevi addirittura Correrci Di cos'è una faccia quella Mamma mia Che panico No mamma mia Uff Ok Ragazzi comunque ora non vi spaventate Dato che ci sarà Il tizio che abbiamo appena visto Che ci prenderà Giusto Ok Ok Tutto nella norma ragazzi Io ricordo bene queste scene Ricordo bene Ci scaraventerà giù E ora verrà tipo il rettore Del manicomio Per dirci Quattro cose Cioè che noi siamo una posto Cose strane ragazzi Io non le ho mai capite Mi sono sempre interessato Molto all'aspetto arcade Di questo gioco Ok ragazzi Quindi Ora dobbiamo praticamente uscire Dal manicomio Se non sbaglio E dobbiamo andare a prendere Una chiave prima C'è lì i comandi La sicurezza del bloccare Le porte Ok dobbiamo andare qui Ricordo bene Che dobbiamo passare Per questi uffici Allora Aspettate un attimo Ehm Dobbiamo andare a sinistra Ok Questo tipo ricordo benissimo Che dopo ci salterà addosso Ragazzi Quindi non spaventatevi Questi ti stanno invece Guardando la televisione Senza un Scopo apparente Abbastati Che non mi ricordo neanche Come ci si abbassa Come si deve Andiamo qui A posto Ehm Prendiamo la scheda qui Tranquilli ragazzi Altizio non succede niente di che Ok Allora Dobbiamo passare di nuovo Per di qui E ora Quel tizio ci dovrebbe saltare addosso Io spero di non spaventarmi Calmi calmi Allora succede Succede tranquilli Ok è successo Ok è successo Va bene Tutto a posto ragazzi Tutto nella norma Ok Va bene Va bene Lo sapevo Lo sapevo E' comunque leggermente Fastidioso Ma lo sapevo Ok Andiamo avanti Dobbiamo fare una semplicissima cosa Allora 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 Dobbiamo andare nella sala comandi Ok Però mi pare che nella sala comandi Ragazzi Ritorni Il tizio non molto simpatico Quindi aspettate Madonna Cara Ok Ragazzi Non mi sono spaventato Ok Non vale come essersi spaventato questo Non vale Devo spaventarmi in maniera seria Non così Con un piccolo Semplice Madonna No Non va bene Ok Premi Quadrato per sbloccare le porte principali Ok Qui Dovrei avere la possibilità di andarmene Però Non sarà così semplice Dato che tipo Ci spegneranno Non lo so La corrente a breve Mi pare Lo stesso tizio che abbiamo visto prima Il rettore Tipo Esatto Vedete Proprio Lì Ok Ok ragazzi Ora ricordo bene Cosa succede qui Ok Dobbiamo metterci qui Perché appare il tizio Non molto simpatico Dalla Dalla porta Lo ricordo bene Dobbiamo fare una cosa tra l'altro Molto particolare Ora Lo ricordo dalle speedrun Lui sfonderà la porta Cercherà in uno degli armadietti E poi Mamma mia E poi andrà a sinistra E io dovrò correrci di fianco Mamma mia che panico Mamma mia che panico Mamma mia che panico Esatto Ok 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 Facciamolo uscire ragazzi Lui dovrà andare a sinistra Mi pare Mamma mia Uh Cazzo Ok vai a sinistra Fra dai Ti prego Per favore Ok Ok calmi tutti ragazzi Lui andrà a sinistra Lo so Perfetto Quando avrà passato una certa parte Andrò Ok Ora Calmi ragazzi Ci sta inseguendo Ci sta inseguendo Lo so Io devo essere molto freddo In questa mostra E per me ti faccio una bruttissima fine Devo andare ragazzi È tutto ok Vai vai calmi 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 Basta che passo qui dentro È tutto questo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia ragazzi Mi pare Ok 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 Ora la situazione non migliorerà Se devo essere sincero Se ricordo tutto bene Perché Eh No Aspettate raga Allora mi ricordo bene Qua che succede Esce un tizio E noi dobbiamo attivare Due pulsanti Per attivarne un terzo Ragazzi È un casino Ora Qua devo avere una freddezza incredibile Ok Freddezza che ho un tempo avevo Ok Ok Va bene Va bene Va bene Facciamolo Aprite 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 Ragazzi devo stare calmo È un gioco Devo stare calmo È un gioco Mamma mia Che panico Che panico Che panico Che panico Mamma mia No ragazzi No Sono nel panico Mamma mia Ok Sto già sfondando Sto già sfondando Io lo ricordo bene Io lo ricordo bene Che già sta sfondando Perfetto Dai vediamo 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 Io mi posso abbassare Volendo Lui è lì Ok Vediamo da dove viene Ragazzi Vediamo da dove viene Esatto Viene semplicemente da qui Quindi io devo Attivare questo pulsantino Simpatico E poi fare una corsa Da un'altra parte Ah Devo attivare anche Già la valvola Va bene Simpaticissima come cosa Guardatelo Com'è simpatico Anche lui Ok Entra nella porta Giusto Entra nella porta Non rendermi le cose Difficili No 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 Ok 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 Smettila 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 Io corro Non si è ancora accorto Della mia presenza Va benissimo Ah Ragazzi Mamma mia Che panico Però Ok Chiudiamo qui la porta Io riattivo La corrente Ok Non si è ancora Riattivata Ora mi pare Che io dovessi aspettare Che lui Venga a prendermi Cavolo ragazzi Eh esatto Lo sta facendo Lo sta facendo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok ragazzi Quando lui andrà a sinistra Noi dovremo andare avanti Con una prediezza Incredibile Uscire Mamma mia Quando apre l'armadio Ok Ora Mamma mia Ragazzi Calmi tutti Calmi tutti Va tutto bene Va tutto bene Se non mi giro Questa cosa Funziona Non mi devo girare Ho l'istinto di girarmi Non devo farlo Altrimenti vado nel panico Se mi giro Mi spavento Ed è tutto finito Devo solo attivare questa cosa Attiva Lui non ci sarà Lui non ci sarà Lo so che non ci sarà Passa ti prego Mamma mia Panico 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 Ok è andata 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 Lui non viene Mamma mia Invece veniva Va bene ragazzi È andata È andata Ho fatto veramente l'inizio Ok Va bene No Ah giusto Stava lui Ok Va bene Eh si ragazzi Ci ha preso Ci ha preso Ok ora ci troveremo Praticamente in una Delle Delle celle Proprio Vero e proprio Della nostra manicomio Non molto simpatica Come potete vedere Con simboli strani Comunque Prendiamoci la nostra telecamerina Che ci viene lasciata Perché noi dobbiamo filmare Tutto quello che sta succedendo E andiamo Ok vediamo Mi pare che debba fare io Questa cosa Per Aspettate Non mi ricordo Perché come si apre No Come si apriva ragazzi Me lo ricordo Sincero Oh Porca Sì E E E E E E E Grazie a tutti.